Rientriamo in studio, siamo noi, siamo compiando un viaggio attraverso questa energia positiva che la terza età mostra di possedere, ma ora vogliamo anche confutare un luogo comune che è quello che vede gli anziani come un peso per la società, perché vogliamo mostrarvi esattamente quanto vale e che forme assume l'aiuto quotidiano di cui tutti noi più o meno usufruiamo direttamente e indirettamente nella nostra vita attraverso i nostri genitori, i nostri nonni e insomma lo vediamo in questa clip realizzata da Federanziani. Grazie a tutti. E allora di questo tema ne parliamo con Roberto Messina che è il presidente di Federanziani. Peso o risorsa? Beh la risposta è nel clip che abbiamo visto. I nostri anziani costituiscono Messina una sorta di welfare che noi ci accorgiamo ogni giorno di avere. Sono il welfare un sistema quasi sociale per i nostri figli, per le nostre famiglie, è così? Diciamo un po' di più, nel senso non perché sia il presidente di Senior Italia Federanziani che voglio portare l'acqua al nostro milino. Nella realtà fortunatamente per come è conosciuta la famiglia italiana il peso del saggio, quindi del senior, è un peso importante del vero paracadute del PIL della nazione. Da quel video che noi abbiamo visto, al di là dei due milioni di nonni a tempo pieno che fanno i babysitter e quindi permettono ai figli o ai nipoti di poter andare a lavorare e pagarsi la rata del mutuo, altrimenti dovrebbero o non lavorare o pagarsi la babysitter. Al di là del fatto che diamo 5,4 miliardi di euro in pappette, pannolini omogenizzati, assicurazione dei motorini o delle automobili, o anche il fatto che il turismo oggi in Italia si regge in piedi con 6 miliardi di euro in più proprio del turismo degli anziani che viaggiano, che sono organizzati. Quindi in più poi ci sono diciamo 240 miliardi di euro che sono un po' le pensioni dei senior. Quelli noi non li abbiamo considerati ma sono di fatto un figlio. Soprattutto in questo periodo di crisi, sono stati utilissimi. Di fronte ai figli che si hanno disoccupato o cassa integrati o precari, se non ci fossero i nonni avremmo qualche problema in più in serio. Poi comunque c'è il grande amore, il grande affetto e soprattutto lo fanno con tutto il cuore perché sono i loro figli e sono i loro nipoti. I numeri sono come dire indicativi e quindi non sono smentibili. Esatto. E danno in qualche modo il senso di come gli anziani siano una risorsa. Allora io vorrei chiederle perché culturalmente c'è una parte del nostro paese, ma in generale c'è una parte della cultura italiana che vede gli anziani come un peso. Allora partiamo da un presupposto che gli anziani ora cominciano a essere in forma aggregata con varie strutture, tra le quali anche la Federazione dell'Associazione della Terza Età, ovvero Senior Federanziani, ma ce ne sono tante altre. Adesso cominciano ad avere un peso. Io ho visto parte della trasmissione e ho visto i collegamenti di Napoli che fanno parte della nostra organizzazione. Ho visto gli amici degli orti che fanno parte della nostra organizzazione. Ho visto altri amici di Roma che sono qui rappresentati. Ecco, è un mondo... Da poco scopriremo chi è. Ecco, è un mondo che sta crescendo da un punto di vista di immersione. Il problema è che non sapendo darsi voce sono stati compressi in un meccanismo mediatico. Noi abbiamo anche poi molti anziani che chiaramente non sono riusciti ad esprimersi perché i nostri anziani di oggi, o perlomeno quelli che sono in gruppi di associazioni, hanno un arreddito basso, una cultura di 30 anni fa da un punto di vista di scolarizzazione. Quindi è difficile raggrupparli. Ora veramente stanno lavorando tutti insieme e si sta ridando il giusto peso, il giusto valore ai nostri genitori o ai nostri nonni. Questa è la realtà fondamentale. Perché senza di loro, per come siamo combinati noi oggi con questa congiuntura economica, siamo in un mare di guai. Io vorrei chiedere però a Caruso, no? Vorrei chiedere a Caruso questo. Insomma, gli over 65 sono importanti. Ma privare il mondo dei vecchi è privarlo di una parte di sé. Esatto. Non è una cosa a sé che va assunta, è una cosa che sta dentro il corpo dell'umanità. Esatto. Prego.